Anche quest'anno il Consiglio regionale pubblica l'agenda scuola destinata a seguire il lavoro degli insegnanti da settembre a giugno. Nelle pagine iniziali si trovano le informazioni sulle visite didattiche di Palazzo Lascaris e alcune note sull'ufficio relazioni con il pubblico e sulla biblioteca. L'agenda viene distribuita gratuitamente ai docenti fino a esaurimento scorte nella sede dell'URC del Consiglio regionale a Torino in via Arsenale 14 e della regione Piemonte in piazza Castello 165 a Torino e nelle sedi decentrate dei capoluoghi provinciali.